salve sono il dottor claudio saracino e oggi parlerò dell mp3 dcs dal titolo no autismo numero uno che guida la mente il subcosciente della persona autistica di autismo colpita d'autismo ad eliminare certi comportamenti che non sono consoni al quieto vivere sono il dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione dcs metodo dcs l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola e questo metodo nasce a los angeles beverly hills nella nostra associazione ipnologi associati e abbiamo aiutato tantissime famiglie con bambini autistici eliminando comportamenti che non erano corretti nella società a scuola in famiglia come strusciarsi vicino ai mobili urlare buttarsi a terra vicino alle lavatrici agli armati chi più ne ha più ne metta non devi credere devi soltanto fare sappi che esiste un iter però puoi iniziare anche da un solo audio mp3 come in questo caso e che si chiama no autismo numero uno o atto primo atto uno e vedere come funziona il metodo dcs non richiede la partecipazione del tuo caro tu puoi seguire le istruzioni molto facile molto facile alla prova di un nonno alla prova di un idiota la prova di un pigro seguire la lettera ciò che io ti indicherò la mia associazione ipnologi associati indicherà e tu vedrai tuo figlio il tuo caro la persona autistica chi ti sta attorno modificare letteralmente abbandonare quel comportamento che non è corretto magari ripetuta l'ennesima potenza che vi fa perdere le staffe non ti costa nulla alla fin fine rinunciare ad una colazione al giorno per 30 giorni e 0 e nulla poi seguono altri mp3 in base alla caratteristica che la persona ha o vuoi e vuoi che elimini che tolga compreso lo studio la concentrazione il non urlare il non fare gesti in consulti il non sbattere dalla mattina alla sera che oppure se in fase di sviluppo a livello fisico anche masturbarsi pubblicamente o in privato senza un minimo di pudore eccetera 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 il mondo dell'autismo se tu hai a che fare con una persona autistica e vario ampio non esistono vere e proprie cure oggi nel mondo di fatti solo l'ipnosi e soprattutto chi con l'ipnosi vera e professionale con i come l'ipnosi di cesso il sottoscritto la mia associazione hanno provato da tantissimi anni da più di dieci anni diciamo dal 2008 ma pure prima dal 2000 possiamo dire l'ipnosi vera e professionale su bambini autistici può dire la sua noi nella nostra associazione i prolegi associati abbiamo tantissimi i casi studio tantissimi ragazzi aiutati e molti dei quali anche se non sono usciti completamente da questo incubo dell'autismo io non voglio dare false speranze devi sempre andare dal tuo medico chiedere fare provarle tutte ma se le hai provate tutte non hai ottenuto nulla di nulla di nulla bene prova l'ipnosi di cesse vera e professionale basta che ti scarichi un audio il primo audio mp3 dicesse dal titolo no autismo 1 atto primo che trovi giù o su cliccando sul link incomodamente da casa tua a qualsiasi ora il completo anonimato senza dare conto a niente a nessuno e poi prova 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 per il momento le sessioni online di ipnosi di cesse vera e professionale sono sospese con il sottoscritto con i propri con i miei associati per problemi di tempo di impegni e di programmi che abbiamo perché il nostro scopo non è vendere quanto quello di divulgare questo metodo di cesse unico al mondo che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi conformista commerciale anche se quest'ultima è buona ma che non fa nulla o non può fare nulla con con le persone i bambini autistici perché condizioni qua non nell'ipnosi conformista e commerciale che tu segue partecipi alle sedute alle sessioni di ipnosi con il mio metodo non c'è bisogno perché è un metodo dcs unico al mondo di ipnosi vera e professionale che non è uguale nel mondo l'ipnosi te lo dico se sei ignorante in materia oppure se non hai visto nessun video del sottoscritto è riconosciuta come medicina alternativa nel 1958 dall'associazione medica mondiale dalla chiesa con papà pio non al 1847 quindi a tutti i santi crismi per essere considerata scienza ma prima di scienze arte poi per cui scara scarica di questo audio mp3 dcs no autismo atto primo segui le istruzioni facilissima la prova di un nonno di un piccolo di un idiota e vedrai già tuo figlio il tuo carro cambiare da così a così ok senza ma e senza se parla il sottoscritto e che le ha viste di tutti i colori quindi visita il mio sito internet www.iprolegiassociati.com vista la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottore claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere il pro soluzione di cesa il dottore caldo saracino e fascia e condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a tante famiglie con bambini autistici anche persone adulte autistiche dove non riuscivano a risolvere il problema in nessun modo con tutto ciò che si vede in giro senza nulla togliere a nessuno e poi seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesa del dottor claudio saracino e alla prossima un bacino abbraccio abbraccio